benvenuti su tumpa questo video è rivolto in particolare a coloro che operano nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e più in generale nei servizi educativi 06 e 710 nel lavoro quotidiano a scuola è sempre più frequente l'incontro con colleghe e colleghi alla ricerca di approcci metodologie materiali sempre innovativi e che pongano i bambini al centro del processo d'apprendimento tumpa è un'app con contenuti didattici inseriti all'interno di una cornice musicale e narrativa e propone percorsi interdisciplinari specificamente pensati ed elaborati dalla pratica quotidiana con i bambini la musica è il cuore di questo strumento digitale ed è considerata come elemento privilegiato su cui innestare una pratica didattica efficace e coinvolgente con l'aiuto di tome pa in viaggio nel fantastico regno di musiche attraverso canzoni storie danze forme codici simboli da leggere e da ideare è possibile fare esperienza di relazione di empatia di motricità di vocalità di drammatizzazione di creatività non vi resta che scaricare tumpa direttamente sul vostro smartphone da app store play store o da www.tumpa.it ed entrare nel magico mondo del regno di musiche accompagnati dai fantastici tu e pa